Vi posso confermare che abbiamo identificato tutte le vittime, tutti i cadaveri e ovviamente assegnato le porzioni cadaveriche che purtroppo sono rimaste a disposizione e abbiamo dovuto assegnarle a ciascuno e quindi anche il soggetto che mancava all'appello rispetto alle famiglie richiedenti è stato identificato. A poco meno di una settimana dalla valanga di rocce e ghiaccio che ha sconvolto la marmolada, il bilancio è definitivo. A comunicarlo poco prima delle 13 a Canazzei, Gian Pietro Lago, comandante di Quiris di Parma, che in 48 ore sono riusciti a chiudere il cerchio delle identificazioni tramite DNA, ponendo almeno un limite all'angoscia dei familiari. Possiamo dire di avere chiuso il cerchio in tempi molto rapidi e fermare il numero a 11 come in qualche maniera si ipotizzava, quindi ad oggi non ci sono elementi per poter pensare a ulteriori soggetti interessati all'evento. Alle sei vittime identificate subito i tre vicentini, Filippo Bari, Paolo Dagni e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi e i due turisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martinuda, ora si può aggiungere l'elenco delle persone reclamate. I due coniugi cittadellesi, Davide Miotti ed Erika Campagnaro, i fidanzati Emanuela Piran e Gianmarco Gallina, la prima di Bassano, il secondo di Montebelluna e il ventiduenne Vicentino Nicolò Zavarta. Otto quindi le vittime venete che fanno dire al presidente Luca Zaia che è finita nel peggiore dei modi, non c'è più speranza, siamo vicini ai familiari delle persone che hanno vissuto una delle più brutte pagine di storia delle nostre montagne, un episodio che si fa fatica ancora ad accettare e a comprendere le parole del governatore. Le loro salme saranno però riconsegnate solo a ricerche concluse, sul luogo della tragedia ci sono ancora dei resti, le riconizioni sia via terra che con droni proseguono. Ora in questo momento le ricerche continuano con i droni come avvenuto nei giorni scorsi, questo accadrà anche domani, domani ci sarà una suddivisione in tre squadre, in tre zone diverse della montagna, mentre finora veniva fatto con una squadra che lavorava diciamo congiuntamente, da domani saranno tre squadre su tre zone diverse. Le ricerche andranno avanti almeno per altre due settimane, confermano dal Soccorso Alpino, anche per rispondere alle eventuali domande dell'inchiesta della Procura di Trento aperta per disastro colposo. Se da un lato gli inquirenti tendono a escludere la prevedibilità dell'evento, i familiari delle vittime sono intenzionati ad andare fino in fondo. Ci sono poi feriti, sette quelli ricoverati di questi due tutt'ora in gravi condizioni, è il caso di Davide Carnielli, il trentino in prognosi riservata al caffoncello di Treviso, dimesso nelle scorse ore il turista tedesco che si trovava all'ospedale di Feltre, migliora anche la donna sempre tedesca che invece è al San Martino di Belluno. Grazie a tutti.